Che hai imparato sul Padre Nostro dai fratelli briganti? Di tutto. Una cosa in particolare? L'amen. L'amen che fa parte del Padre Nostro nella liturgia. Amen vuol dire è così, così sia, in verità, ci credo. Quando ne abbiamo parlato, loro hanno detto ecco, l'amen è la mia firma in fondo a tutto quello che ho dichiarato. Alla fine dei sei mesi, davanti al magistrato, io ho detto è proprio così, i fatti, le circostanze, i nomi, le persone, le responsabilità mie e di altri. Tutto questo può fare un po' di bene, può aiutare le indagini, la verità, un po' di libertà. Bene, io firmo, amen. Non avevo mai pensato che amen potesse significare anche questo. E molti di loro, molti di loro mi hanno detto, dopo aver firmato, aver scritto quell'amen, io sono scoppiato in pianto. Come un bambino che appena nato... Grazie. 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 Grazie.